Giovedì 6 settembre 2018, benvenuti su C per TV, siamo sempre a CrossFit Bilizio, la casa di C per TV e vediamo la classe di oggi, che inizia con una bella corsa di 5 minuti, all'aperto ovviamente, lo so che non vi piace tanto correre, ma come abbiamo detto anche ieri, sono proprio le cose che ci piacciono di meno, che sono quelle che invece dovremmo fare di più, quindi rush, filare e correre fuori. Una volta finito e rientrati, faremo un PVC pipework completo, cioè riscaldamento completo con il PVC, potete trovare il video su internet dove ci sono delle spiegazioni migliori sicuramente di quelle che vi potrei dare io. A seguire abbiamo due volte Tabata, quindi due volte il completo giro di Tabata di 4 minuti, dove faremo arch e hollow position in versione rock, quindi arch rock o superman rock se preferite e hollow rock. Passiamo quindi al wall della giornata, che sarà, per quanto riguarda gli Advance, una versione un po' modificata di Barbara, l'abbiamo chiamata Barbara Regional, perché è un po' più complicata rispetto a quello standard. Si tratta di fare 5 round for time di 5 straight muscle up, 10 handstand push up con le parolette, quindi con un deficit abbastanza importante, 20 jack di sit up e 30 pistol. Al termine di questo piccolo round ci sono 3 minuti di rest per un totale di 5 minuti. Non sarà una passeggiata. Per quanto riguarda invece i Beginner e gli Advance, facciamo il normalissimo Barbara, che prevede 20 pull up, 30 push up, 40 sit up e 5 squat, con 3 minuti di pausa tra un round e l'altro. Divertitevi e ci vediamo domani.